Lorenzo, che bella vittoria, che bella giornata, i sorrisi a fine partita dicono tutto questo e molto altro. Sì, è semplice perché una vittoria in un momento così delicato della stagione è molto importante. Sono contento che anche i nuovi acquisti di gennaio si siano ambientati già bene, abbiano fatto già due presenze su due e molto molto bene. Per cui questo è un segnale da parte del gruppo che siamo e di dove vogliamo arrivare il prima possibile perché è un gran risultato contro un'altra grande squadra che punta anche loro alla salvezza. Un clean sheet per te? Poi certo, è tutta la squadra che contribuisce a non prendere gol, ma oggi ci hai messo veramente del tuo. Sì, quando ho un contributo così alla squadra sono molto contento anch'io. Poi se la partita finisce senza prendere gol è ancora meglio perché per noi portieri e penso anche per i difensori vuol dire tanto. Ci dà ancora più stimoli e ci dà ancora modo di lavorare con la testa ancora più presente negli allenamenti e in tutte le cose da fare perché sappiamo che il risultato può arrivare se ci mettiamo la grinta come oggi e sono contento che sia arrivato il terzo clean sheet e come hai detto tu non è merito solamente mio ma di tutti quanti i giocatori in campo. L'Udinese comunque al tiro ci è arrivato in varie occasioni, è una di quelle gare che gasano un po' un portiere, fare tutte quelle parate anche spettacolari. Certo perché alla fine siamo lì per questo, per parare e quando succede portando a caso un risultato positivo è molto più gratificante che come è successo per esempio con la Juve la giornata scorsa per cui sono felice di aver dato, come ho detto prima, il mio contributo. Spero di poterlo dare in altre occasioni, di portare insieme a tutti i giocatori altri punti a questo Verona. Ecco altri punti perché siamo agli ultimi tasselli per sancire la salvezza, il vostro obiettivo. Esatto, mancano a matematica quattro punti e vogliamo fare il prima possibile perché ci aiuterebbe mentalmente a raggiungere il nostro obiettivo e poi dopo vedremo cosa potrà succedere ma per ora il nostro primo obiettivo rimane solo e unicamente la salvezza.